grazie per essere con noi a lorenzo libutti football commercial di celsi fc ciao lorenzo allora partiamo con le prime curiosità se potessi riassumere il tuo ruolo al celsi con tre parole quali seresti in tre parole è veramente difficile posso dire allenatore giocatori commerciale tu ti trovi nel mezzo diciamo a queste tre insomma importanti pilastri del calcio della società si esatto io faccio da da filtro quello che sono gli uffici diversi uffici che può essere marketing sponsorizzazioni charity foundation del club che non hanno quel contatto con i giocatori faccio faccio da filtro con l'allenatore e i giocatori ambassador del club come la squadra leggende possono essere touch point più utili a fidelizzare i tifosi già acquisiti o intercettare nuovi target magari dove il calcio non ancora sport popolare secondo me con le leggende è difficile a trarre nuovi nuovo audience perché le leggende sono 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 dei giocatori che hanno già un loro audience no e allora secondo me serve di più a fidelizzare quelli che sono quello che il corno è il core audience del del dei tifosi potrebbe anche essere utile per le nuove generazioni conoscere storie vecchie del calcio quello sicuramente con quali criteri invece decidi quali siano le richieste che hanno più priorità le richieste commerciali non è facile ovviamente noi abbiamo il dipartimento di sponsor che che le richieste sono la maggior parte contrattuali perciò è ovvio che quelle ci sono delle priorità però adesso sta crescendo molto anche quello che è tutti i continui contenuti in house perciò di marketing eccetera allora bisogna lavorare con tutte e due no alla fine alla fine l'importante quello che dico sempre è fare le attività se una viene prima o dopo quello si si discute internamente alla fine si riesce a fare tutto invece quali sono le difficoltà più frequenti quando organizzato un'attività di promozione con giocatori ambassador e diciamo quali sono i fattori esterni che possono provocare un danno alla reputazione del club le difficoltà più frequenti sono ovviamente tutte esterne a quello che è il mio personale no perché ovviamente quando vengono richiesti diciamo tre giocatori per fare un tipo di attività noi possiamo avere tutto il planning che vogliamo possiamo decidere che giocatore utilizzare questo con un mese di anticipo ma i giocatori oggi sono comunque delle persone sono 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 umani no normale allora sono soprattutto giocatori di calcio perciò si possono infortunare il giocatore può essere si può perdere nel traffico e l'allenatore può decidere di dare un giorno off allora sono diverse dinamiche che possono possono creare dei problemi last minute poi anche fa parte anche del mio ruolo provare a soluzionare queste ultimamente l'uscita c'è ho visto sui giornali questa lista di comportamentale del celsi che ha fatto un po scalpore anche se secondo me invece un club dovrebbe avere delle linee guida in senso di comportamento proprio anche per il fatto che i giocatori ormai sono influencer si possono chiamare così quelle le regole che sono uscite tutti i club hanno io sono stato team manager al world for che un'altra squadra a nord di londra e tutte tutti i club hanno queste regole è ovvio che meglio se restano all'interno dello spogliatoio poi in questo caso sono uscite ma tutti tutti i club hanno delle regole che sono importanti per per mantenere poi quello che il day to day grazie mille per essere stato qua con noi al social football summit speriamo di ritrovarti presto